Al termine di una caccia all'uomo durata due giorni, è stato arrestato in Canada Justin Burke, 24 anni, già sopranominato il Rambo di Moncton. È sospettato di aver ucciso tre poliziotti e di averne feriti altri due. Da mercoledì scorso si aggirava per strada nella città di 70.000 abitanti sulla costa orientale, armato con due fucili d'assalto. Raggiunto una prima volta dalla polizia, il ragazzo si è nascosto in una zona boschiva e ha iniziato a sparare, colpendo a morte i tre agenti. L'ultimo omicidio plurimo in Canada risale al 2005, quando un uomo uccise quattro poliziotti nella provincia occidentale dell'Alberta. In quel caso si trattò del più grave fatto di sangue nella storia del paese, negli ultimi cento anni.